Ciao a tutti amici bentornati in questo canale e benvenuti in questo nuovo video Io sono Barbara e oggi sono qua con il primo reading vlog del 2024 Come primo libro da leggere in questo 2024 ho scelto Babel di RF Kuang In questa bellissima stupenda edizione Mondadori Che ha questa sovraccoperta che è una meraviglia Veramente molto bella Anche se molto scomoda Io so già Se non maneggio bene questo libro rischio di rovinare questa sovraccoperta Questa carta che sembra veramente carta forno E il libro è fatto così E questo rappresenta la torre di Babel Sede centrale di questa storia I dettagli di questo libro sono fantastici Ma quello che colpisce sono gli edges Con una frase che riprende il tema centrale del libro E cioè ogni atto di traduzione è un atto di tradimento Io il libro l'ho già iniziato Anche perché non volevo iniziarvi il reading vlog senza sapere assolutamente niente Perché effettivamente io non sapevo assolutamente nulla di questo libro Di questa storia Me lo sono fatto regalare per il mio compleanno Completamente a scatola chiusa Sapevo solamente che fosse un fantasy Ho letto già le prime 117 pagine Sono arrivata proprio all'inizio del libro secondo Il libro inizia nel 1836 A Canton Una città della Cina Una città portuale Dove vive Robin Swift Non è il suo vero nome Noi ancora adesso Cioè io ho letto solo le prime 100 pagine E ancora non si sa il vero nome di questo protagonista Ma assumerà il nome di Robin Swift Quando il professore londinese lo salverà dalla peste Una peste che ha colpito tutta la sua famiglia E che ha ucciso tutti Tranne lui Lui riesce a salvarsi Grazie appunto all'aiuto di questo professore E quindi Robin sopravvive Robin stava già morendo per la peste Il professore riesce a salvarlo Il professore lo salva Ma non è del tutto disinteressato C'è un motivo per cui si trova Proprio lì Proprio nella città di Canton E proprio per salvare Robin Robin quindi Era portato della casa di questo professore Dove vive solamente con una governante Robin lì avrà il modo di riprendersi Dopo questa bruttissima esperienza Che l'ha quasi ucciso Quando il professore Li farà una proposta Cioè di andare con lui a Londra Prima di andare con lui E precisamente a Oxford Diventare uno studioso di traduzione a Babel Robin ovviamente non ha più la famiglia Non ha più come sostenersi Era già un ragazzino molto povero Perché la sua famiglia era caduta in disgrazia A causa delle scommesse fatte dallo zio Una cosa del genere E quindi accetta E parte con questo professore Con questa governante per Londra Il professore chiarirà subito Che lui non sta adottando Robin come figlio Non è quello il suo interesse Il suo interesse è che Robin diventi Un grandissimo studioso E che riesca ad entrare appunto a Babel Questo è l'incipit della storia Iniziato questo libro appunto Senza sapere assolutamente niente Quindi per me è stata una sorpresa Leggere tutto questo È un fantasy che ho già capito Si costruisce poco alla volta Non abbiamo molte informazioni Circa la famiglia di Robin Di chi sia suo padre Robin stesso All'interno del libro E anche noi Ipotizziamo che il padre Possa essere il professore Però non è detto Perché il professore Non rivela ancora questa cosa Poi si sviluppa Tutta la parte di Robin Quando arriva in Inghilterra Un mondo totalmente diverso dal suo E dove soprattutto il suo aspetto fisico Robin è appunto dato a Canton In Cina Il suo aspetto fisico è molto diverso Rispetto alle persone di Londra Viene riconosciuto subito come uno straniero E questa è una cosa Colpisce molto Robin Proprio questa diversità Tra lui e gli altri Una cosa che io non ho capito amici È l'interesse del professore Verso Robin Allora io capisco Che possa essere importante Per un traduttore Sapere molte lingue Quindi lui dice proprio a Robin Che il suo interesse verso di lui È anche incentrato nel fatto Che Robin sia madrelingua cinese E quindi essere madrelingua È diverso da una persona Che impara una lingua Perché ci sono delle inflessioni Ci sono dei modi di dire Che una persona che impara una nuova lingua Farà molta difficoltà Ad arrivarci A saper gestire Nel modo corretto una lingua Quindi l'importanza di Robin È questa È quella che appunto Lui essendo madrelingua cinese Non lo deve imparare Deve solamente Non dimenticarlo Però non ho capito A cosa possa essere utile Adesso io sono arrivata Alla parte in cui Robin appunto È a Babel Sta iniziando i suoi studi A Babel E una cosa che ci tengo a dire È che è un libro abbastanza crudo Anche le scene tipo di violenza Del professore Nei confronti di Robin Sono molto crude Cioè proprio io Mi sono sentita un po' male Quando l'ho letto La scrittura di RF Kuang Mi sta piacendo tantissimo Io ero spaventatissima Da questo libro Sia per la sua mole Perché ha più di 600 pagine Sia anche appunto Per la storia Sapendo solo che fosse Un fantasy abbastanza difficile Non lo so Mi aspettavo una cosa Molto più complicata Invece no La lettura fluisce molto bene Anche se l'autrice Inserisce tantissimi Ma tantissimi Racconti storici Veri Cose veramente successe E siamo nel pieno periodo Dell'industrializzazione E si parla Di questa lavorazione Dell'argento Si parla di politica Della dinamica Tories e Wings Quindi c'è molta politica C'è molta parte storica Solo che questo Non va a Almeno a me Non ha rallentato la lettura Anzi Mi ha molto incuriosito Perché sono cose Che comunque Si conoscono Mi è sembrato carino Rivederle appunto In un altro contesto In un contesto fantasy Questo libro È un fantasy La parte fantasy però A parte il fatto Di guarire una persona Dalla peste Con una tavoletta D'argento E non l'ho ancora Intravista Degli accenni Adesso che Robin È entrato a Babel Una cosa che mi incuriosisce Tantissimo di questo libro È che io non capisca Dove voglio andare a parare Innanzitutto La frase che caratterizza Questo libro È ogni atto di traduzione È sempre e necessariamente Un atto di tradimento In che senso? Non lo so Sono molto gasata Da questo libro Allo stesso tempo Sono molto terrorizzata Perché ho paura Di non capirlo Perché essendo un fantasy Che si capisce Già essere molto strutturato Ho paura appunto Di non comprenderlo Però vabbè Prima di iniziare a leggere Quindi prima di dare il via A questa lettura Ci tengo veramente A scartare con voi Un regalino Ma so già che cos'è È un libro che volevo Veramente da tantissimo tempo Amici Perché era molto famoso Sul book talk Un po' di tempo fa E adesso l'hype è ritornato Quindi mi sono detta Va bene È ora di prenderlo Anima di Waidi Muawad Io non so Se si pronuncia così Perdonatemi Per me è folle Quanto mi abbia incuriosito Tra l'altro è bellissimo Questo libro della Fazzi E se vi interessa La trama Ve la lascio Nulla amici Quindi adesso iniziamo A leggere Vado avanti Con questa storia Innanzitutto inizio Già a spogliare Il libro Perché io non leggo Con questa sovracoperta Non ce la faccio È scomodissima Inizio a leggere E noi ci sentiamo Tra un po' Appena ho delle novità Da condividere con voi Inizio a leggere E noi ci sentiamo Inizio a leggere E noi ci sentiamo Inizio a leggere mi sono spostata a letto perché non so da voi ma qua fa freddissimo io sto gelando infatti mi sono fatta una borsa dell'acqua calda da tenere qui ho appena finito il capitolo 5 e ho anche appena finito il mio tè e questo capitolo 5 è stato ricco di molte cose molte informazioni nuove innanzitutto il sosia che robin vede una sera che sta girando per oxford non è un suo sosia ma è una persona cioè non è una cosa paranormale ma è una persona in carne ed ossa una persona molto importante che gli dice una cosa altrettanto importante cioè gli fa delle rivelazioni altrettanto importanti che riguardano il professore argomento principale di questo libro sono queste tavolette d'argento vengono attivate attraverso delle lingue che solo i traduttori possono attivare questa cosa però non mi è molto chiara forse mi sbaglio comunque robin è una di queste persone che può attivare queste tavolette d'argento funzionano un po' come delle bacchette tipo di harry potter cioè tu dici la formula e loro fanno quella cosa questo capitolo 5 ci narra l'incontro di robin con quello che sarà credo uno dei personaggi rilevanti di questa storia che introduce a robin una versione diversa di quella che è babel e di quella che è oxford cioè di cosa sta succedendo l'università non dice perché cerca di nascondere no li racconta un po' quello che sta succedendo le cose che non vengono raccontate mi sta piacendo mi sta piacendo veramente tanto vado avanti con il capitolo 6 amici sono tornata sono a pagina 160 sto per iniziare il capitolo 8 di babel e adesso ho un quadro forse un pochino migliore rispetto alla storia perché all'inizio non avevo tanto le idee chiare su che cosa fosse lo scopo di questo libro di che cosa si stesse parlando però adesso forse ho capito qualcosina di più facciamo un piccolo recap come vi ho detto all'inizio il protagonista di questa storia è robin swift robin swift viene portato da canton in inghilterra da un professore londinese molto ricco e benestante che vuole istruirlo e vuole che lui intraprenda una carriera di traduzione nell'università di oxford chiamata babel a babel avviene anche la lavorazione dell'argento l'argento che è fondamentale in questa epoca storica di cui appunto il libro è tratta ma è anche fondamentale in quanto l'argento permette di compiere delle magie possiamo dire così io l'ho intesa come una bacchetta di harry potter praticamente permette appunto alle persone che la possiedono di compiere delle magie e quindi qual è lo scopo della traduzione di poter agire su queste tavolette ok questo è quello che ho capito adesso nel libro io sono nella parte in cui robin swift è a babel quindi ha già compiuto il suo programma di studi in postoli da il professor lovell intorno al quale tra l'altro alleggia anche una sorta di mistero perché questo professore è imparentato con robin robin sa da quando il professore lo ha portato a casa guardando le somiglianze tra lui e il professore ma anche sentendo delle voci di corridoio che probabilmente quel professore è suo padre ma il professore non gli dice mai niente e robin non chiede così la storia va avanti va avanti fino a che non si trova a babel per compiere i suoi studi per diventare un traduttore e di perfezionare quella che è la sua lingua madre e cioè il cinese a babel quindi ci sono diverse babel è una torre ed è divisa in diverse sezioni ogni sezione si occupa di qualcosa la sezione la principale è quella della lavorazione dell'argento ma robin è ancora a livello di studente quindi lui sta cercando un po di capire che cosa sia babel e sta cercando di capire che cosa c'entrino queste tavolette un giorno però robin viene a conoscenza di una persona una persona che diventerà molto importante nella storia e cioè di un ragazzo che gli somiglia tantissimo che io pensavo fosse una cosa tipo paranormale no perché questo è un fantasy quindi pensavo fosse una cosa un po così e invece no questo questo sosia esiste veramente ed è una persona che è molto collegata a robin nel senso che è il suo fratellastro è un altro figlio del professor lovell è un altro ragazzo che è stato portato da macau dal professor lovell in inghilterra per fare la stessa cosa che sta facendo robin quindi per studiare ma con un particolare che questo griffin cioè il fratellastro di robin ha intrapreso una scelta di vita diversa griffin ha visto che cosa serve la lavorazione dell'argento ha visto quali sono i suoi effetti ma ha visto anche i danni che provoca soprattutto perché la lavorazione dell'argento quindi con queste magie che vengono fatte non vengono messe alla portata di tutti ovviamente come un bene prestigioso non è che viene dato a tutti i cittadini no solamente le persone più ricche possono entrarne in possesso e possono usarle perché hanno l'istruzione per poterlo fare e perché appunto le tavolette d'argento si pagano tanto e quindi quello che griffin dice a robin è che si babel è il centro di tutto questo il centro delle lingue la piena conoscenza di quelle che sono le lingue per poter governare queste tavolette ma dice anche che babel poi quello che prende dagli altri paesi dagli altri popoli poi non lo ridistribuisce perché dice che nei paesi più poveri che non si possono permettere il costo delle tavolette viene importata solamente la loro cultura e la loro lingua per motivi di studio ma non viene esportato quello che poi quella lingua sta dando al paese la gran bretagna ha la gestione maggiore di quelle che sono le tavolette d'argento questo è quello che la storia ci sta dicendo e questo è il motivo per cui griffin si ribella lascia babel entra a far parte di una società segreta e qua è la parte un po dark accademia una società segreta che è chiamata hermes che ha lo scopo di rubare le tavole d'argento di babel e di esportarle nel mondo a chi ne ha più bisogno griffin chiede a robin di entrare in questa società segreta di entrare appunto in hermes robin accetta accetta nonostante lui abbia molto a cuore la società di babel abbia molto a cuore quello che sta instaurando quello che sta imparando in questo ambiente però allo stesso tempo capisce giorno per giorno il prezzo che c'è da pagare per tutto quello che sta facendo questo è tutto quello che ho capito e dove sono arrivata con la lettura infatti l'ultima frase del capitolo 7 si chiude con l'unico modo per giustificare la gioia di trovarsi lì e tenersi ancora in bilico sull'orlo di quei due mondi era continuare ad attendere la corrispondenza notturna di griffin una ribellione silenziosa e segreta il cui scopo principale era mitigare il proprio senso di colpa di fronte al fatto che quel lussuoso scintillio aveva un prezzo quindi lussuoso scintillio è babel che ha un prezzo appunto quello di non star facendo comunque il bene per il mondo per la comunità ok questo è dove siamo arrivati però io una cosa non ho ancora capito perché in un passaggio del libro viene detto il professor Lovell parlando con Robin appunto gli dice una cosa che mi ha fatto un po' dire ok allora questo è il senso Robin chiede al professor Lovell non so mi sembra un po' strano che i britannici siano gli unici a poterle usare le tavolette d'argento visto che il contenuto fondamentale per il loro funzionamento arriva dai cinesi e dagli indiani questa cosa non l'ho capita cioè nel senso gli inglesi possono usare le tavolette solo se sanno il cinese o l'indu o possono usarle tutti in inglese Robin capisce che il suo ruolo lì non è solamente quello di studiare e di interpretariato ma è anche quello di decodificare quello che è la lingua cinese per poi creare una sorta di grammatica per gli inglesi così che possano farne uso comunque il libro mi sta piacendo tantissimo non so se ve l'ho già detto ma la scrittura di RFquag mi sta piacendo da morire buonasera amici scusate le condizioni perché sono già in pigiamata ma è tardissimo sono tipo le 10 le 10 e 20 di sera e io devo andare assolutamente a dormire a breve perché domani mattina lavoro però volevo darvi degli aggiornamenti su Babel se no che reading vlog è innanzitutto parto col dirvi che oggi ho fatto la mia prima live su tiktok è andata molto bene meglio di quanto sperassi quindi se volete compagnia per leggere o avere qualcuno con cui parlare di libri io vi aspetto su tiktok sono riuscita ad arrivare a pagina 210 allora amici ho un po' di cose da dirvi nel senso che adesso la storia sta ingranando quindi seguiamo il percorso formativo di Robin all'università di Babel dove lui appunto si sta formando per diventare un traduttore laurea che gli permetterà di incidere le tavolette d'argento quindi poterle creare lui stesso una cosa forse erronea che ho detto le tavolette possono essere incise solo in cinese e in hindu in realtà non è vero le tavolette possono essere incise in tutte le lingue io ho sottolineato un sacco di cose tutte quelle che mi sembravano importanti perché nel capitolo nono viene spiegato appunto come funzionano queste tavolette ma nonostante questa spiegazione io non ho molto ben capito quindi forse era stata una mia disattenzione o forse io non capisco il sistema magico allora qua dice tutto molto facile e già tanto da dire una volta compreso il principio di base recuperiamo ciò che si perde in traduzione perché qualcosa va sempre perduto e la tavoletta gli dà vita ok ma in che senso? questa è stata la spiegazione si incide una parola o una frase in una lingua da un lato e una parola o una frase corrispondente in una lingua diversa dall'altro poiché la traduzione non può mai essere perfetta le inevitabili distorsioni, i significati che si perdono o si deformano nel passaggio da una lingua all'altra vengono intrappolate e poi manifestate dall'argento quindi ci sta dicendo che in queste tavolette immaginiamo una tavoletta che da una parte io ci incido con una parola in una lingua quindi può essere il portoghese dall'altra incido in una parola che voglia dire la stessa cosa in italiano ovviamente la traduzione non sarà mai perfetta perché i significati si deformano nel passaggio l'argento manifesterà quello che io ho scritto nessuna traduzione può trasferire perfettamente il significato dell'originale in un'altra lingua e fin qua ci siamo i significati ovviamente scrivendolo in una lingua e poi in un'altra non saranno mai perfetti perché appunto con la traduzione qualcosa si perde Robin Swift e il suo amico Remy sono stati scelti perché sono madrelingua uno hindu e l'altro Robin cinese è ok ma quindi Robin se dovesse incidere a una tavoletta che lingua scriverebbe? in cinese e in inglese? e intanto però Robin ha accettato di partecipare alla società segreta proposta lì dal fratellastro è ok a me questo fratellastro mi puzza cioè mi puzza proprio di persona che poi lo fregherà Robin Swift entra a far parte di questa società segreta praticamente non per un ideale non perché perché lui ha queste cose e non ci ha mai pensato lui entra a far parte perché suo fratello gli ha detto che è giusto così è sbagliatissimo cioè rubare i poveri per poi arricchirsi però non è quello che lui avrebbe voluto fare infatti lui lo dice io spero che Robin, che Griffin non mi contatti perché io me la sto godendo questa fase dell'università con i miei amici quindi la storia non è che sia andata molto avanti cioè ci stanno spiegando determinate cose per quanto riguarda il funzionamento di queste tavolette ma alla fin fine sono qui cioè siamo praticamente a quando Robin sta studiando amici sono finalmente ritornata per aggiornare questo reading vlog oggi siamo al 5 di febbraio e io non ho ancora finito Babel l'ho iniziato senza sapere assolutamente niente riguardo questa storia l'ho iniziato senza aver visto recensioni, senza aver letto la trama quindi completamente all'oscuro di tutto pian piano durante la lettura io mi sono fatta un'idea di quello che stava succedendo e ve l'ho anche raccontata adesso ho un inquadramento generale della storia ci troviamo a Oxford, ci troviamo nel 1800, ci troviamo in Inghilterra durante gli anni della rivoluzione industriale questo libro è molto molto politico questo libro è storia nel senso che ovviamente è un fantasy perché ci sono degli elementi di magia ma gli elementi di magia non sono il fulcro centrale della storia questa storia va oltre il fantasy questa storia è politica parla tantissimo della rivoluzione industriale di quello che stava succedendo in Inghilterra nel 1800 di quello che l'Inghilterra ha fatto alle colonie RF Kuang fa un lavoro storico molto complesso e si vede dal libro ma intervalla ovviamente cose vere successe a cose che si è inventata per riuscire a completare questa storia Robin, Robin un ragazzo cinese che viene portato da questo professore in Inghilterra per studiare il professore in realtà era suo padre lo scopo del padre di Robin di fare questo di non riconoscere questo figlio come suo figlio legittimo ma di averlo da una donna cinese e poi portarlo in Inghilterra che Robin fosse madrelingua quindi lui non avesse bisogno di imparare una lingua cioè il cinese quindi queste sono le basi su cui si pone la storia la lingua, la questione della lingua e la questione dell'Inghilterra e della rivoluzione industriale Robin viene portato in Inghilterra e gli viene subito detto che lui andrà a studiare a Babel scuola di traduzione dove in questa scuola imparerà e approfondirà le lingue che gli serviranno poi per la lavorazione dell'argento che cos'è questo argento che viene lavorato? l'argento sono delle tavolette che vengono incise in una lingua e poi in un'altra creando così non un sinonimo tra una lingua e l'altra ma una distorsione queste tavolette non venivano utilizzate a vantaggio anche dei più deboli o comunque a vantaggio delle persone bisognose queste tavolette venivano utilizzate soprattutto a vantaggio dei più ricchi Robin, questa è la sua storia praticamente fino a pagina 400 amici della storia cioè non c'è niente di avventuroso niente plot twist fino a pagina 400 mi sembrava di leggere questo libro e di non fare passi avanti perché era un continuo ripetere di cose che ci aveva già detto 200 pagine prima e venivano riprese da pagina 400 io attualmente sono a pagina 458 è successo di tutto di tutto però non vi ho detto una cosa Hermes Hermes che cosa vuole? Hermes vuole che la distribuzione dell'argento sia egualitaria nel senso che l'argento non vada solo a vantaggio dei più ricchi ma vada anche a vantaggio dei più poveri e soprattutto che non venga dato anche alle colonie nelle quali questo argento è stato prelevato il compito di Robin sarà quello di rubare delle tavolette di rubare dei libri da Babel questo scopo di Hermes va molto in contrasto con quello che Babel vuole da Robin perché Babel vuole che Robin diventi un traduttore che lui riesca a implementare quella che è la grammatica cinese che ovviamente i cinesi non vogliono lasciare agli inglesi così che Babel possa avere un ampio lessico anche rispetto al cinese è così che le tavolette possono essere attivate più facilmente grazie a questa lingua Robin poi si dissocierà da Hermes questo perché lui entrerà in conflitto Robin penserà sì ma Babel mi sta dando tanto Hermes non mi sta facendo avere le prove di niente quindi io come posso sapere che poi quelle cose che sto rubando gli atti criminali che sto compiendo vadano poi a beneficio delle persone più povere adesso invece stiamo entrando nel vivo della storia Robin è stato sopperto dal professor Lovell ad aiutare i suoi amici a scappare con cose rubate per conto di Hermes e il professore inizierà poi a tenere d'occhio Robin perché Robin effettivamente in Hermes c'è stato cioè lui ha fatto parte poi che se ne sia dissociato è un conto però lui ne ha fatto parte e quindi quando viene sorpreso ad aiutare i suoi amici che hanno appena trafugato determinate cose ovviamente Robin viene un po' tenuto d'occhio loro partono per un viaggio in Cina accanto nella città natale di Robin e questo viaggio è emblematico per tutto quello che succederà dopo a Babel loro partono per questo viaggio pensando di andare a fare del bene pensando di andare a cercare di mediare una situazione politica tra gli inglesi che vogliono introdurre l'oppio in Cina e i cinesi che non vogliono l'introduzione dell'oppio perché dicono no voi non potete introdurre una cosa che nemmeno per voi va bene solo perché qua potete guadagnarne di più loro vanno a mediare questa situazione loro quattro insieme al professor Lovell questa spedizione diciamo così sarà cruciale perché qua Robin scoprirà tante di quelle verità scoprirà che cosa sta veramente facendo l'Inghilterra alla sua patria scoprirà tante cose in merito al professore a suo padre e qua ci sarà l'apice drammatico cioè una cosa che Robin farà nei confronti del professore sono arrivata ad una parte molto delicata perché dopo che loro sono tornati dopo che è successa tutta questa baraonda sono tornati e si devono nascondere e ricercano Hermes perché hanno scoperto delle cose molto importanti sul conto del professor Lovell e su tutti gli inglesi che sono stanziati in Cina Robin si ricoalizza con Hermes ma succede una cosa inaspettata uno degli amici di Robin si rivela essere un traditore e questa persona volterà le spalle agli altri amici e farà sì che Robin venga arrestato Hermes se non è una società segreta non era ben voluta dall'impero britannico e io sono in questa parte e vi voglio dire amici che io non sono pronta alla fine di questo libro vi dico la verità stavo trovando molto lento perché ripeto che c'è molta storia c'è molta politica c'è molta traduzione ma adesso che tutti i nodi sono venuti al pettine che tutte le cose stanno veramente succedendo sto adorando questa storia spero vivamente che queste ultime 100 pagine non mi deludano eccoci per l'ultima parte di questo reading vlog c'eravamo lasciati che Robin era in Cina con i suoi compagni di università quindi Leti, Remy e Tuar e anche il professor Lover per mediare una situazione politica tra i cinesi che non volevano l'introduzione dell'oppio in Cina e gli inglesi invece che volevano l'introduzione per potersi arricchire Robin insieme al professore avevano il compito di convincere i cinesi ad aprire i porti per l'oppio che proveniva dalla Gran Bretagna ovviamente i cinesi non volevano per non creare una situazione bellica tra queste due potenze allora si era deciso di intervenire con una mediazione e questa mediazione chi doveva farla? ovviamente Robin che parlava la lingua però in questa sede Robin capisce quali sono veramente le mire della Gran Bretagna sull'introduzione di quell'oppio e compie quindi un atto di tradimento nei confronti di Babel perché Robin dirà la verità al generale cinese e cioè che gli inglesi avrebbero comunque introdotto l'oppio loro volenti o nolenti e questo fa scoppiare ovviamente le ostilità da parte dei cinesi Robin e i suoi amici quindi sono costretti a scappare nel viaggio in nave per tornare a casa quindi per tornare in Inghilterra Robin compirà un atto da cui non potrà più tornare indietro nei confronti del professor Lovell e questo farà sì che tutti i suoi amici ne siano responsabili perché lo hanno aiutato in questa situazione in Inghilterra succederà il finimondo loro si metteranno in contatto con Hermes sarà una decisione anche di Robin di rimettersi in contatto con Hermes per cercare rifugio e nel frattempo loro scopriranno da delle carte del professor Lovell quello che veramente era la mira della Gran Bretagna nei confronti della Cina e cioè di far scoppiare una guerra la Gran Bretagna voleva dichiarare guerra nei confronti della potenza cinese e quindi ovviamente loro correranno da Hermes per fermare gli inglesi che ovviamente possedendo l'argento avrebbero avuto un esercito navale di molto superiore rispetto a quello cinese quindi loro trovano Hermes e poi da lì c'è l'escalation che porterà ad un finale pazzesco e di cui non avevo immaginato questo finale tra tutti gli scenari possibili e immaginabili della mia testa quello che RF Kuang ha descritto non era tra questi vi ho spoilerato che uno degli amici di Robin tradirà gli altri e tradirà Robin stesso la persona che tradirà Robin non solo li tradirà ma ucciderà anche un altro degli amici il finale di questo libro è stato per me una lettura mozzafiato io non mi immaginavo tutto quello che sarebbe successo non mi immaginavo una presa di posizione di Robin in questo modo non immaginavo tutte le perdite che avremmo avuto in questo libro e quindi è un finale molto drammatico quello che non mi aspettavo è la presa di posizione di Robin nei confronti di Babel nei confronti di tutto perché noi vediamo Robin all'inizio molto indifferente a quello che succede nel mondo cioè se non ci fosse stato Griffin ad introdurgli le condizioni precarie delle colonie ad introdurgli le condizioni proprio precarie delle persone povere dell'Inghilterra stessa lui non se ne sarebbe mai accorto perché comunque Robin viveva una vita agiata dedicarsi ai suoi studi senza pensare ad altri all'inizio RF Kuang ci mostra questo ci mostra lo scintiglio di Babel che cosa Babel poteva dare ma poi pagina 400 in poi RF Kuang ci mostra che cosa Babel stesse togliendo a questi ragazzi Remy, Victor e Robin erano importanti per Babel per la loro lingua, per la loro cultura il professor Lovell ha fatto di Robin uno strumento per poter arrivare alla lingua cinese alla cultura cinese quindi non era disinteressato lo scopo di Babel nei confronti di questi ragazzi Babel pretendeva dopo avergli dato tutto quello che avevano pretendeva lealtà pretendeva che loro andassero contro la loro madrepatria per potersene arricchire per poter portare avanti le loro campagne politiche nel modo più indisturbato possibile i traduttori servivano a questo non solo a mediare servivano a imporre le volontà della corona britannica poi vediamo quanto l'argento in questa società quanto la lavorazione dell'argento quindi queste tavolette magiche sia essenziale alla società britannica ma tutto questo argento tutta questa lavorazione proviene da un unico posto e quel posto è Babel quindi crollando Babel crolla tutto tutte le agiatezze che mandavano avanti la città ecco questo è il libro amici questa è la fine ma proprio la fine fine io ve la voglio veramente lasciare a voi da leggere e da scoprirla perché io questo libro lo consiglio tantissimo è stata un'esperienza di lettura pazzesca adesso parliamo un po' delle mie impressioni il sistema magico creato da RF Kuang è impeccabile il fatto che non ci sia una predestinazione per la lavorazione dell'argento per poter compiere le magie mi è piaciuto tantissimo ogni persona dotata di istruzione che conoscesse più di una lingua poteva accedervi è bello vedere come la magia sia diciamo per tutti alla portata di tutti anche se poi non è così mi è piaciuto tanto il fatto che l'elemento magico l'elemento fantasy si amalgama bene con la storia questo libro è anche molto d'atmosfera fino a pagina 400 noi viviamo quella storia noi viviamo con quei ragazzi li vediamo passeggiare per le strade di Oxford questo è bellissimo è raro che un libro riesca a farmi immergere così tanto nell'ambientazione a farmi dire a fine lettura ehi guarda che devi tornare alla realtà per quanto riguarda i personaggi io ho apprezzato tantissimo Robin ho visto una grandissima caratterizzazione di questo personaggio mi ci sono riconosciuta in lui in alcuni punti come quello del sentirsi sempre lo straniero nonostante lui fosse una risorsa preziosa per quella nazione che lo ha ospitato ma comunque si sarebbe sempre sentito uno straniero è uno dei temi del libro molto sensibili e che mi hanno più toccato ho apprezzato il suo cambiamento dall'inizio del libro di un ragazzino privilegiato e poi vederlo alla fine di una persona che combatte per i suoi ideali anche per gli ideali delle persone che non ci sono più è un ragazzo che ha messo il bene degli altri e della collettività prima di se stesso l'epilogo di Leti mi ha molto sorpreso non vi so dire se mi sia veramente piaciuto quello che poi RF Quang le ha fatto fare oppure no io ho visto Leti incarnare lo stereotipo della bianca colta e facoltosa che ha solo quel pensiero questa è una cosa che voi capirete se leggerete il libro nel complesso a me Babel è piaciuto mi è piaciuto anche molto il finale l'ho apprezzato tanto non me lo aspettavo appunto vi ho detto non mi aspettavo assolutamente quello che è successo nelle ultime 50 pagine però mi è molto molto piaciuto la lettura di Babel è una lettura che io vi consiglio e nulla amici io vi ringrazio per l'attenzione vi ringrazio per aver passato il vostro tempo insieme a me anche oggi vi saluto e vi mando un grandissimo abbraccio e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao